Fondazione Comunitaria con la cura di casa propone anche un dolce natale. Ce l'abbiamo qua? Che cos'è? Assolutamente sì, per la prima volta quest'anno Fondazione del VCO ha promosso un catalogo solidale per il Natale. Si chiama Il Natale con la cura di casa. La cura di casa è un progetto che stiamo sostenendo da un paio di anni sul territorio. Il catalogo propone quattro idee dolci per il Natale. Ci sono dei piccoli biscotti, i prezzi vanno dai 2 euro ai 20 euro. Abbiamo qui la scatola Triss invece che raccorpa tre tipologie diverse di biscotti. Biscotti vengono prodotti da banda biscotti a cura della cooperativa sociale di Vieto di Sosta che opera a Verbagna. E nel maxi pacco che abbiamo chiamato scatola abbiamo invece anche la marmellata di cooperativa La Prateria, quindi una doppia partnership con due realtà no profit del territorio. Dove troviamo il catalogo? Sul sito della Fondazione è possibile contattare la Fondazione telefonicamente o tramite posta elettronica e vi darà tutte le informazioni per procedere con l'ordine dei vostri regali di Natale. Molto bello si fa solidarietà anche contribuendo però al lavoro di altre realtà sociali importanti del territorio. Sì, è verissimo. Infatti il nostro slogan è fai un dono che vale quattro volte, perché chi riceve questo regalo riceve un dono molto particolare. Allo stesso tempo si sostiene il progetto La Cura di Casa e le attività di queste due cooperative. La prima che si occupa di inserimento di soggetti svantaggiati, la Prateria Domodossola, mentre Banda Biscotti segue invece l'inserimento di detenuti del carcere di Verbagna. Quindi ha una finalità di inserimento lavorativo. Grazie.